Alluvione in Piemonte. Il Consiglio regionale approva lo stanziamento di 10 milioni per aiutare imprese e cittadini a far fronte ai danni provocati dalle piogge e frane del 2 e 3 ottobre. Ai 2 milioni e mezzo già previsti in bilancio regionale in caso di calamità sono stati aggiunti 7 milioni e mezzo frutto delle riparti Piemonte. Lo stanziamento, che andrà ai comuni colpiti dall'alluvione, è stato approvato con il varo del rendiconto 2019 e ha seguito le comunicazioni in aula del presidente della regione Alberto Cirio, che ha stimato i danni in circa un miliardo di euro. Lo stato di emergenza credo che sia scontato, anche perché chiunque veda il Piemonte anche solo in fotografia non può non riconoscere che c'è stata una calamità naturale. Ma oltre alla dichiarazione che va bene, serve ancora di più lo stanziamento economico, i soldi da parte del governo, perché il Piemonte, che da sempre paga tanto e riceve poco, oggi deve ricevere, perché senza aiuti straordinari da parte dello Stato e dell'Europa non si riparte. Nel dibattito che ha seguito le comunicazioni di Cirio, il capogruppo della Lega Alberto Prioni ha ricordato i danni subiti nel VCO e la necessità di un piano per la pulizia dei fiumi. Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha evidenziato l'urgenza di progettare la gestione di alvei e argini. Vicinanza alle popolazioni colpite è stata espressa da Carlo Riva Vercellotti di Forza Italia. Servono ovviamente oggi delle risorse, lo stato di emergenza, dei poteri commissariali che consentano di velocizzare gli interventi di ricostruzione della parte infrastrutturale, delle strade, dei versanti di montagna. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sean Sacco, ha invocato la necessità di interventi strutturali per la difesa del suolo. Per Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, l'evento non era imprevisto anche alla luce dei dati dell'ARPA. Per il Partito Democratico è intervenuto tra gli altri Domenico Rossi. Dobbiamo cambiare assolutamente le nostre politiche sul consumo di suolo, dobbiamo aumentare i nostri sforzi per ridurre le emissioni di CO2 e dobbiamo promuovere tutte delle politiche anche di ripopolamento della montagna. Il Consiglio regionale ha voluto ricordare, con un minuto di silenzio, le vittime dell'alluvione. Ciò che è accaduto e continua ad accadere, ha dichiarato il Presidente Stefano Allasia, ci deve spronare a mettere in atto una politica di sviluppo e gestione contro la violenza degli elementi naturali per scongiurare altri eventi drammatici.